Certo! C'è Marco! Dove? Qui stavi per frustare come l'altra volta! Ma a me quel ti pare? Sarebbe scontato! Ciao! E' un insetto enorme! E' un insetto enorme! 2, 2, 3... Nicole! Sì? Mi vuoi reggere i capelli che ho paura che mi tocchino il pare? Più su Ma perché non li tagli se ti fanno così male? Mai Perché da grandi poteri derivano grandi responsabilità Ma non c'è Se anche i tuoi capelli condividi Iscriviti al canale Grazie a tutti